Afghanistan In Afghanistan le donne hanno prodotto 106 tonnellate di carne di pollo e 21 milioni di uova in tre anni. L'orticoltura urbana fornisce il 70% della produzione di verdura a Kinshasa. Vietnam La laguna più grande del sud-est asiatico ottimizza la gestione del terreno per garantire la sicurezza alimentare. America Centrale Le sementi di qualità migliore hanno permesso di raddoppiare la resa dei raccolti per più di 450.000 famiglie in America Centrale. Niger 550 gruppi di radioascoltatori nelle comunità rurali danno voce alle donne, agli uomini e ad interi villaggi. America Centrale America Centrale America Centrale America Centrale America Centrale America Centrale Grazie a tutti